Obiettivo raggiunto e sogno da vivere. 9 e 16 giugno sono due date importanti per la metal carpenteria Rarenante Scrotone e per l'intera città. Il team allenato da Checco Arcuri disputa i playoff. Questo era il primo sogno che noi già accarezzavamo da tanto tempo e questo si è realizzato. Adesso tra i prossimi due sabati vediamo se possiamo accarezzarne uno un po' più grande, che naturalmente non vuol dire ancora nulla, però siamo arrivati a questo punto, arriviamo fino alla fine e diciamo che con grande soddisfazione. Questa meravigliosa compagine sigla un risultato storico in una stagione da record per la pallanuoto crotonese e lo sport pitagorico. Vogliamo dimostrare che anche qui a Crotone si può fare della pallanuoto di qualità, d'altronde voglio dire i nostri under lo dimostrano ogni domenica, per cui siamo nell'elite delle squadre giovanili, delle società giovanili, per cui vogliamo entrarci anche con la prima squadra. Conosciamo la società Roma 09, in questi anni ha fatto benissimo ed è un gran seguito, è una piscina abbastanza piccola per cui si creerà un catino anche con tanto pubblico. Sarà bellissimo anche giocare lì, però il vero tornallotto è quello, se noi dovessimo superare con lo scoglio poi siamo consapevoli che qui a Crotone possiamo dire la nostra, possiamo giocarci tutte le nostre carte per quello che è la qualità, la tecnica, la velocità, la forza e tutto quanto, è il nostro pubblico. Uno splendido risultato che va al di là delle aspettative e oggi più che mai merita il sostegno dell'intera città. Adesso inizia completamente un altro campionato perché come sempre in tutti gli sport i play-off sono completamente un'altra storia, non c'è da scegliere, sono tutte squadre competitivissime, sono le migliori di ogni girone, dei quattro gironi di Serie B d'Italia. Quindi adesso tra l'altro andremo a affrontare questa semifinale su andata e ritorno. Credo che entrambe le squadre saranno preparate a dovere, la differenza principalmente sarà più di testa e di voglia, di forza, di volontà, di cuore, caratteristiche che sicuramente a noi crotonesi non mancano.